se sarò sindaco cambierà davvero tutto ora sono cazzi vostro io ti ne conosco vieni no, tu devi sartenere questo stronzo si riponderà come la peste cosa? dobbiamo parlare alla nazione non ci saranno tanta gente a dare pensate questo è un reattore al plutonio di seconda classe distruggerà l'intera città non fare stronzate non ti arderà non è deficiente questo qua non offenda non va noi io non ho stato io facevo il candano che tu vada all'inferno non ho stato non lo so non ho stato non ho stato